La storia fa le rime. Da anni l'associazione Deina, insieme all'ISREC, lo insegna agli studenti piacentini che partecipano al tradizionale viaggio della memoria. Anche quest'anno non fa eccezione e così una settantina di ragazzi si sta preparando a partire. Per farlo, ISREC ha organizzato tre incontri, il primo dei quali ha visto intervenire lo storico trentino Francesco Filippi. Innanzitutto un viaggio lungo il secolo, tutto il Novecento, perché visitiamo luoghi e memoriali della Grande Guerra, della Seconda Guerra Mondiale, del fascismo di confine, fino all'ultima guerra che ha coinvolto l'Europa, quella dei Balcani. Nello spazio è un viaggio che tocca Trieste, con questi luoghi che dicevo, e poi Sarajevo. E a Sarajevo una novità importante, il 13 al pomeriggio abbiamo appuntamento con l'ambasciatore italiano a Sarajevo, grazie ai buoni uffici di Marco Bergonzi. Il viaggio della memoria di quest'anno ha una meta molto complessa, cioè l'Est e i Balcani, grande confine culturale e sociale che va da Trieste e arriva fino a Sarajevo. È un viaggio molto complesso. Sono anni ormai che abbiamo trovato questo felice modo di collaborare per la formazione di ragazzi. L'Istituto Storico di Piacenza è aperto e sensibile ai temi non solo della storia come approfondimento, ma anche della divulgazione e della diffusione. E noi ci troviamo veramente molto bene perché affrontiamo sfide nuove sulla formazione e la capacità di far viaggiare i ragazzi attraverso lo spazio, con questi viaggi di memoria, ma anche attraverso il tempo, per fare in modo che sia utile studiare il passato per comprendere il presente.